Ci disponiamo un attimo per iniziare il nostro piccolo spettacolo, ringrazio ancora Mazzali per averci ospitato, noi siamo sempre così desiderosi di venirvi a dare un contributo musicale in questo posto, in questa giornata molto bella, molto lieta e quindi per noi è sempre un piacere venire a trovarvi, grazie, un minuto che ci disponiamo.